presento qui un romanzo di uno scrittore svizzero italiano lo scrittore si chiama Pierre Lepori del canton ticino ma vive da anni in svizzera romanda nella svizzera francese scrittore poeta autore di teatro giornalista culturale si occupa molto di critica teatrale letteraria ed è autore appunto anche di romanzi questo romanzo si intitola effetto notte di Pierre Lepori dunque editore l'effigie è un romanzo che ha un titolo che evoca il titolo di un film di François Truffaut effetto notte dal resto se ne parla un attimo anche nel romanzo effetto notte poi anche un effetto fotografico i fotografi dicono questo quando devono colorare di notturno una una fotografia e che di notte succede che c'è un presentatore radiofonico si chiama Alessandro il protagonista del romanzo che tiene una rubrica radiofonica una trasmissione notturna di quei programmi in cui un conduttore molto abile nel sapere ascoltare e dare qualche parola di conforto ascolta gli sfoghi dei cruci di persone insonniche che vogliono lanciare i loro messaggi in bottiglia dentro le onde della radio insomma Alessandro un giorno condottore dunque di questo programma ha una sorta di crisi un po' esistenziale un malore che è più psicologico che fisico fatto sta che i suoi superiori gli dicono ma prenditi un mese di vacanza dai riposa e lui se ne va e affida per un mese il suo programma un suo collega che lui non apprezza molto insomma e poi decide di appunto cambiare per un attimo aria e parte per l'america per una grande città americana e dunque la narrazione è questa questa catarsi insomma questo Alessandro che è un giovanotto un po' sovrappeso un po' cardiopatico che alle spalle un matrimonio fallito insomma non è che stia molto bene in tutti i sensi e lì nella grande città americana da solo deve deve pensare a se stesso è solo in mezzo a centinaia di migliaia di persone che lo incrocia si poi incontra anche una persona una donna un po' grassa anche lei con cui nasce una simpatia ma soprattutto lui pensa alla sua vita al rapporto non facile ma un legame abbastanza forte con un fratello ha un rapporto con la ex moglie che si è rovinato un rapporto con un amico e a poco a poco lui deve deve guardarsi dentro e lo fa dentro una città che pierlepuri racconta con molta abilità descrittiva di questa città si hanno le sensazioni i metro le stazioni illividite di luci al neon del metro e poi palazzi e poi l'odore della stagione insomma poi cosa succede che questa narrazione in terza persona molto attenta molto descrittiva molto acuta anche nell'indagine psicologica della riflessione su di sé di alessandro si accompagna con gli innesti dentro il romanzo delle telefonate e degli ascoltatori del suo programma fra l'altro lui alessandro quando in america grazie al fuso orario di giorno può via internet sentire il programma del suo sostituto e capisce che il suo sostituto è bravo anche lui insomma capisce che nessuno è insostituibile né alla radio né in qualsiasi altra operazione della vita ma insomma e queste voci della radio trascritte insomma e gergalità parlate che viene trascritta da pierlepuri sono le intermittenze dentro la narrazione in terza persona anzi alla fine di ogni inserto di confidenza radiofonica di voce nella notte c'è anche il link di una musica che accompagna come se fosse un programma radiofonico questa confidenza questo sfogo di questo ascoltatore insonne e dunque questa mescolanza di stili rende questo romanzo attrattivo poi la prosa non è sempre facile richiede attenzione è la prosa in terza persona di lepori le voci nella notte sono molto più istintive molto più leggibili anche spesso nel loro dolore espresso dunque effetto notte per lepori edizioni effigie